E' ripresa l'attività in presenza qui alla plenaria di Strasburgo, ci aspettavamo ovviamente di registrare un comportamento diverso, un cambiamento, di poter vedere una ripartenza che pensasse ai nostri giovani, alle nostre famiglie, ai nostri lavoratori, ai nostri disoccupati, ai nostri disabili, a tutti i bisogni reali di emergenza che l'Europa e che il nostro Paese purtroppo prova in questo momento. Nel realtà qui al Parlamento Europeo si discute di regalare 14 miliardi alla Turchia. Non usa giri di parole l'europarlamentare pavese Angelo Ciocca per commentare la discussione sul terzo mandato dell'assistenza preadesione per i paesi candidati all'Unione Europea. La sessione dell'Assemblea Generale del Parlamento Europeo ha approvato un finanziamento da 14,2 miliardi da destinare a paesi come Turchia, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia per aiutarli ad attuare una serie di riforme nei prossimi sette anni. L'Unione Europea dedicherà una particolare attenzione agli interventi sui diritti fondamentali, le istituzioni democratiche, la pubblica amministrazione, lo sviluppo economico e la concorrenza. I fondi saranno forniti con un approccio basato sui risultati e in conformità con il principio dell'equa ripartizione. Per Ciocca però, quei soldi andrebbero usati per i bisogni delle economie e dei cittadini europei colpiti duramente dalla pandemia da Covid-19. Quindi al posto di mettere in campo 14 miliardi per i bisogni dei cittadini italiani, per i bisogni dei cittadini europei, per l'emergenza post-Covid, qui si pensa di regalare come fondo di preadesione alla Turchia 14 miliardi con un obiettivo folle, duplice folle. Da un lato convincere la Turchia ad entrare in Europa, io penso che uno Stato che è basato sull'estremismo islamico non può rientrare in Europa, non deve entrare in Europa, noi continuiamo a dire no alla Turchia in Europa proprio per questo, ma la cosa folle è che usiamo i soldi dei contribuenti europei per pagare qualcuno per convincerlo ad entrare in Europa. Io non ho mai visto nessun imprenditore pagare qualcuno per comprare le azioni della propria azienda, solitamente ci si fa pagare per vendere le azioni, ci si fa pagare per entrare in Europa e la cosa folle è che gli Stati fondatori come l'Italia, i cittadini italiani per stare in Europa pagano, i cittadini turchi che sono fuori dall'Europa prendono i soldi dall'Europa. Io sono qui a dar battaglia su questo tema e su altri temi, mi sembra veramente folle, speriamo davvero di poter convincere la plenaria a rivedere l'impegno di 14 miliardi, non regalandoli alla Turchia, ma mettendoli sui bisogni dei cittadini europei e dei cittadini italiani.